l'anno passato e tutti mi avevano paura ma ci fanno tante ma ci capiravano come si chiama? gm abbigliamento neve napoli gm accadere dovete ca come si dice stavi? via casa 9 a 30 via via casa 9 a 31 ma ci capite capire le cazuna e le stivale ascoltate tutti quanti buonasera vi voglio bene a tutti quanti ok un bacio a tutte le detenute a tutte le detenute di Pozzuoli vabbè non volevo riuscire di chi mettete i colloqui dalle vostre donne che ancora non stanno in carcere Pozzuoli un bacio a tutti i carceri di Napoli ciao buongiorno buongiorno e pace una bella pace e la pace in tutte le case a voi e tutta la diretta Tutte le diretti? Te ne mangi? Sì. Sarà una pittata. Eh, 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 che ora mi ha fatto qui? Tutto. Ah, come non lo ha fatto? È giacaniero. Eh. È giacaniero. È giacaniero. È giacaniero. È giacaniero. Eh. Ullo, questa è scelta tu. Buonasera. Guardatene un po' qua. Non so dove farvi guardare. Vi presenterò la mia villetta. Avrete. Hai l'anno, avrete. Questa è la piscina. Che poi c'è un... Aspetta, facciano un tic-toc. State zì. Voi tu? Voi tu? Sì. Voi tu? 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 Ma cominciamo a cattare, ragazzi. Avrete qua, diventerà una villa delle favole. Perché è troppa bella. C'è ora qua tutta ristrutturata. Avrete. C'è, troppa bella tu. Ma non mi è bella, ragazzi. Non mi è bella. Eccola qua. Stava profondata nel mezzo. Avrete. Avrete. Ma che l'è bellissima. Stava profondata nel mezzo. Avrete. Hai voglia di fare la pizza? Comunque vi faccio vedere dopo altre cose. Sì. Dimmi. Eh. Eh, dimmi perché? Ho fatto la calza. Eh, è un problema quale o l'altro? Che c'è noi. La villa se ne parla l'anno che bene. Perché già fanno la villa che di fate. Questi rimanono sempre a me. Ricce la gente che non c'è un canno di sciù. Va bene? La dico io. Pure che è tua la casa. Ma la dico io quando sarò. Eh. Bravo. Mamma, è com'è questa? Noi, uè. Ah, perché io mi piacevo qua. Te mi piacevo qua. Questi amici. Non ti capito? Ma ce l'ha detto che me l'ha scattato. Questi manate. E che c'è una volta che mi ha fatto. Tanto buco, pio. Che è, vedi? Ha parlato con me? Ah, bene. Ah, bene. Sì? Sono la ragazza di Grazia. Quei bella, aspetta. Quei che apparello, aspetta, aspetta. Eh, vedi qua, non c'è la signora. Ah, signore. Ma ci sta niente a dire? Sì. Ah, ci sta niente. Ma signora, papi, state buco. Papi, papi, mia chiamata, papi. La stai niente a dormire. A posto di stare in due magazzini e li fa filà. Io non c'è un romaggio a Spart. E questa è la zitta che si chiama Isabella. Io non tengo nessuno. Tengo tutti contro. Tengo tutti contro. Sono sola. Sono sola. Con un po' tic-toc e faccio i tic-toc soli. Mi ha già portato i cinque profili all'anno soli. Io stai a tenere i super milioni. I super milioni. Cioè, io gli ho detto no. Vedi, sa, se hai una figlia, Veronica, essa figlia, un marito, un hippo, cioè, fanno tutto quanto in famiglia tic-toc. Mi stanno bene, lì, la moglie, i figli. Cioè, Susi me l'ha detto. Abbiamo parlato, Susi. Io sono da sola. Capo fanno tic-toc con mio marito, la Giavriò. E ora, mamma, le faccio coca con sorella, con Laura. Ma io sono sola io. Cioè, io sono sola, ha già cantato, ha già fai pubblicità, ha già combattuto la diretta, ha già combattuto il tic-toc. O un magazzino che farnisce la roba, Rita, va a fare la roba, fa la produzione, va a fare, va a cavallare, su bacca, su bacca, su bacallare. Che, ecco, il problema di che, ecco, il problema di mia mamma. Cioè, ma ci rendiamo conto che un signor a me che forza mi sta rando. Io sono sola. Sola contro tutti. Io sono sola. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Ve lo giuro. Ve lo giuro davanti a Dio, non ce la faccio. Io non ce la faccio. Non ti porti più, ti porti tu. Ti porti tu, tu vuol essere portato tu. E però io non mi porto più, tu stai scrivendo lo che dì. Che io non mi porto più, ma sai che non mi porto più? Perché io non posso durare per sempre. E' un po' di sefassino, per esempio, stai. E' un po' di cose nuove giuste, mazzate, bruttele. La vita con me. ma non fai niente da ridare oggi te ne dici un po' bene documento più negativo che scritto la verità brucia oggi la verità brucia a me io che sono le verità rite io che sono le verità ridare oggi qua bene se stai scrivendo i forti non sono amati sono scomodi sono poco manipolabili i forti sanno sentire se stessi conoscono i loro diritti e non sono disposti a rinunciarci